Fa una certa impressione vedere magistrati, avvocati e animatori di un sit-in di protesta ancora più significativo e sentir loro, per professione sempre accorti nell'uso delle parole, pronunciare espressioni come emergenza o impossibilità di fornire il servizio giustizia. Il presidio questa mattina nell'atrio degli uffici del settore civile del Tribunale di Nocera Inferiore, insieme, accomunati dalla preoccupazione per un affanno che sta trasformandosi in paralisi, avvocati, sostituti procuratori, giudici e rappresentanti degli amministrativi. Accenti diversi per un'unica voce, la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che ha accorpato a Nocera le pendenze di Cava e Mercato San Severino, ha fatto del presidio dell'Agro un agglomerato di 395.000 utenti, con un aumento del 30% delle sopravvenienze. Ma il personale è rimasto quello di sempre, insufficiente nei numeri a garantire una giustizia giusta e rapida ai cittadini. In procura, 7 soli magistrati, più il procuratore che tuttavia non gestisce direttamente fascicoli, 28 giudici tra civile e penale, pochi per la nuova geografia territoriale degli uffici, su cui pesa anche lo scarso numero di personale amministrativo. Al monocratico, una media di 50 udienze ogni giorno, con rinvii che spesso arrivano al 2016 o 2017. Un'amnistia di fatto, determinata da una spropositata pendenza di fascicoli in tutti i settori, specie in quello civile. Motivi più che sufficienti per determinare l'allarme degli operatori di giustizia a Nocerini, fino a giugno sono in astensione gli avvocati che, insieme a magistrati ed amministrativi, sperano in un'interlocuzione diretta con il Ministero della Giustizia. Alla preoccupazione degli operatori fa da naturale contraltare l'esasperazione dei cittadini nelle morse di una giustizia lenta e per questo solo fatto avvertita come ingiusta. Si moltiplicano gli episodi di aggressioni verbali e talune volte anche fisiche a personale amministrativo o magistrati in udienza. Una polveriera che preoccupa almeno quanto è il rischio che prima o poi qualcuno comincia a pensare che in caso di un torto subito forse è meglio farsela da soli la giustizia.